Macchine demolitrici al lavoro sul lato ponente di Viale Trieste sotto lo sguardo incuriosito dei tanti avventori del lungomare di Pesaro baciato da sole e temperature primaverili. Da una settimana infatti partita la demolizione dell'hotel Garden, imponente e storico albergo della città da un decennio divenuto monumento di abbandono e degrado a due passi dal mare. Dopo l'iniziale demolizione dei locali cucine il braccio meccanico si è alzato oggi fino all'ottavo piano per sgretolare, metro dopo metro, locale dopo locale, la struttura ad angolo fra Viale Trieste e Viale Rovereto che già un anno fa fu oggetto di un servizio di Rossini TV in seguito alle segnalazioni dei residenti attigui che ne lamentavano pericolosi cedimenti e poco edificanti incursioni notturne di balordi o senza fissa dimora. Da questo mese di maggio è iniziato invece un massiccio piano di riqualificazione targato Renco SPA. La società proprietaria della struttura ha infatti ottenuto il via libera amministrativo alla ricostruzione dell'hotel. Dalle 68 camere dell'albergo edificato negli anni 70 nascerà un boutique hotel con 32 suite da 40 metri ciascuna con un ristorante, una spa e un garage sotterraneo. Una struttura che rinascerà con dimensioni identiche all'attuale ma con ogni accorgimento innovativo dal punto di vista antisismico e di sostenibilità ambientale compreso un progetto di riutilizzo di acque piovane in quello che sarà il primo albergo di proprietà diretta di Renco a Pesaro. In questo momento è interrotto il transito in Viale Trieste nell'area compresa fra Viale Pola, Rovereto e Monfalcone ma l'interruzione durerà una settimana. La demolizione sarà poi completata entro la fine di maggio. Successivamente ad ottobre partirà la costruzione del boutique hotel che sarà completato nel 2025. 25.